Enrico IV a Canossa. Dopo essere stato scomunicato dal Papa, Enrico IV decide di chiedere perdono. Così nel 1077 si reca a Canossa, in Emilia, e mentre il Papa stava risalendo la penisola proprio per incontrare i feudatari tedeschi, si era fermato ospite della Contessa Matilde appunto a Canossa, l'imperatore era intenzionato a incontrare il pontefice e trovare un accordo. Il Papa però si rifiuta di ricevere l'imperatore e decide di umiliarlo pubblicamente. Enrico IV infatti viene costretto a rimanere per tre giorni e tre notti fuori dal castello al freddo, con il capo cosparso di cenere in segno di penitenza, prima di poter incontrare il pontefice. Dopo questi tre giorni e queste tre notti, Gregorio VII decide di concedergli il perdono. In questo modo, dopo averlo confermato imperatore e aver rafforzato l'autorità di Enrico IV nei confronti dei suoi vassalli, allo stesso tempo è riuscito ad affermare la superiorità del Papa nei confronti appunto dell'impero. Nonostante questo però la lotta per le investiture, quindi per la nomina dei vescovi, non finisce con questo fatto di Canossa, ma Enrico IV e Gregorio VII continueranno a farsi la guerra nel tempo, minacciando scomuniche e minacciando anche attacchi degli eserciti. Nel 1122 il successore di Enrico IV, Enrico V e Papa Callisto II riuscirono però a trovare un accordo, il cosiddetto concordato di Worms. Worms era una cittadina tedesca che appunto dà il nome a questo accordo. L'imperatore, secondo questo concordato, rinunciava a nominare i vescovi e ammetteva in questo modo che era compito quella della nomina dei vescovi esclusivo del Papa. Questo è il primo esempio che abbiamo di separazione netta tra il potere della Chiesa e il potere dello Stato, quindi il potere della Chiesa che si occupa solo ed esclusivamente delle questioni religiose e il potere dello Stato che invece si occupa di questioni burocratiche, come ad esempio la nomina politica dei vassalli. Prima di allora la nomina dei vassalli, come abbiamo visto in altri video, in realtà era compito del re che però, quando il vassallo era un vescovo avrebbe voluto nominare anche appunto i religiosi.